Prende corpo il progetto relativo alla realizzazione della nuova mensa per i poveri intitolata Don Giovanni Mele nel quartiere Piccianello di Matera. Lo rende noto il capogruppo del PD Roberto Cifarelli che ringrazia il direttore dell'Alsea, Domenico Romaniello, per la cessione gratuita dell'immobile di via Cererie a comune di Matera. Cifarelli ricorda il lungo iter burocratico avviato dopo una petizione di cittadini e proseguito prima con l'approvazione in consiglio regionale di un ordine del giorno da lui proposto e poi con un emendamento alla legge regionale di stabilità 2016 di cui è stato il primo firmatario. Dopo la consegna dell'immobile all'associazione Don Giovanni Mele potrà essere presentato in comune il progetto e si potrà dare corso ai lavori e dotare la città, dice Cifarelli, di una rinnovata infrastruttura così utile soprattutto nell'attuale contesto socio-economico in cui la solidarietà diventa determinante per contrastare i crescenti fenomeni di povertà.